Il primo giorno di lavoro era un lunedì, mi ricordo, ed era il primo agosto del 1960. Al sabato avevo fatto le visite mediche, infatti sono stato disoccupato sei o sette giorni perché c'era il weekend e mezzo, altrimenti sarei stato disoccupato tre giorni. Sono andato a lavorare e abitavo a 150 metri dalla portineria. Siamo usciti con mio papà, mio papà era più contento di me, orgoglioso perché mi avevano assunto come impiegato di seconda categoria nel momento dei tre mesi di prova, perché agosto, settembre, ottobre ero in prova. Nel momento, l'1 di novembre no perché era festa, ma il 2 di novembre quando abbiamo lavorato, impiegato di seconda categoria. Mio papà che era una qualifica speciale, che aveva 30 anni che lavorava, era orgoglioso. Sono andato, mi sono presentato, quei tempi non c'erano pass, non c'era niente. Mi hanno detto di aspettare e è arrivato un signore a prendermi, mi ricordo il mio amico Genta, è arrivato e diceva sempre, lui che era piccolino, e diceva, sono arrivato, ho trovato uno spinungone, matro, eccetera, alto, dico guarda un po' questo qua, già non mi piace, mi diceva. È arrivato, mi ha preso, mi ha fatto entrare dentro a piedi e mi hanno portato in questi laboratori, chiaramente era tutto nuovo, perché io quando avevo fatto le mie prove durante l'estate andavo da altre parti, era al laboratorio colore, il capo era il dottor Franchi. Mio papà andava ai tanini, quindi mi ha fatto un pezzo di strada assieme, poi lui è entrato ai tanini, i tanini sono prima del ponte, del Bormeda, io ho continuato, sono entrato nella portina di area centrale. Quando sono arrivato nei laboratori, dico la verità, non ero emozionato, cioè non è che chi sta, cosa devo fare, cosa non devo fare. E allora c'era il dottor Franchi, chiaramente impegnato, lì che parlava al telefono, mi hanno fatto fare un po' di anticamera, e mi è uscita una segretaria e mi ha detto Perito, a quei tempi là ci chiamavano per nome, per nome e cognome, Perito, dottore, ingegnere, cioè Perito, lei ha scritto nel curriculum che parla anche francese, che sa il francese, un confermo, il dottor Franchi ha detto che nell'attesa si può leggere qualcosa di questo libro, mi ha dato scemi della fotografia, mi sono piazzato lì, ho letto, dopo un 40 minuti mi ha fatto entrare, mi ha salutato, mi ha detto, di cosa parla quel libro? E io gli ho detto quel poco che avevo letto, di cosa parlava, eccetera, eccetera, per vedere se sapevo, se avevo greffato, oppure se proprio ero un cretino. E quindi mi ricordo, e lui, questo Franchi, quando mi aveva intervistato, mi ricordo che era arrivato in ritardo, e siccome lui abitava a Savona, allora alla fine dell'intervista l'abbiamo fatta all'ultima parte giù dal viale, intanto che mi diceva, ma lei fa raccolta di francobolli, raccolta di farfalle, eccetera, perché nelle ricerche ci vuole gente precisa, allora mi faceva queste domande per vedere se ero uno che faceva raccolta di farfalle o di francobolli, ero già uno preciso, e io ho detto, guardi dottore, lo so dove vuole arrivare, l'ho capito che vuole vedere se sono preciso, io dico, non faccio raccolta di niente, l'unica cosa che farei raccolta volentieri sarebbe di ragazze, che però non c'entra niente con il lavoro, mi ha detto, invece di chiamarmi Occhetto mi ha chiamato per nome, per la prima volta, mi ha detto Bruno, Bruno, anch'io quando ero a sua età, mi piaceva, mi ha dato una mano sulla spada e mi ha assunto per strada, cioè mi ha assunto, mi ha preso lui nel proprio ambito del lavoro. Questo dottor Franchi che è ancora vivo, ed è nel 25, e abita a Spotorno, abita sull'altura di Spotorno, è diventato, signori, il capo di tutte le ricerche di Ferragna, poi il capo di tutte le ricerche americane di tutta la 3M e gli ultimi tre anni le ha fatte come Scientist, assistente scientifico del Managing Director di tutta la 3M. Quindi ha vissuto gli ultimi 15 anni negli Stati Uniti ed è diventato il consulente scientifico del Presidente della 3M, una persona che io stimo in un modo che non potete immaginare. Ci sono degli aneddoti pazzeschi a lavorare con lui, io vorrei che Luigi fosse qui e riderebbe ancora adesso. L'anno nel 60, 31 dicembre ragazzi, 31 dicembre del 60, si lavorava tutto il giorno, non è che si faceva festa dal 20, dal 19, dal 23, chiaramente l'ultimo giorno dell'anno, allora io l'ultimo giorno dell'anno devo fare un certo tipo di lavoro, non sto a spiegarvi il particolare, e vado nel teatro di Posa dove c'era una specie di gabbiotto dove dovevamo fare delle prove, delle riprese, con un 5.000, un faro di 5.000 davanti. Io vado lì, mi metto il mio 5.000, entro nel gabbiotto al buio e comincio a fare dei lavori. alle 5.000, meno 20, alle 4.30 fanno una festa, come tutti fanno una festa l'ultimo giorno dell'anno, passano con il bicchiere in mano, con il panettone in mano, eccetera, e mi spostano senza che io me ne accorgo, perché mi spostano alle 5.000, quindi cambia tutto. Io finisco il mio lavoro, alle 4.45, 5.45, bianco e nero, vado nel laboratorio, lo sviluppo, ci voleva 3-4 minuti, metto tutte le prove sul negatoscopio, il negatoscopio è una specie di scatolone grande di legno con il vetro e le luci sotto per vedere, e arriva, gli altri miei colleghi erano già quasi andati via tutti, e io ero un po' in ritardo, l'ultimo dell'anno del 31 dicembre, arriva a Franchi, guarda sta roba, e vede che mi avevano spostato i 5.000, era venuto fuori un casino, mi dice, occhetto, cos'è questo troiaio? Non lo so, dottore, cosa li devo dire? Le rifaccia? E io gli ho detto, beh, la prossima settimana, no, adesso mi ha detto, giuro, io piangevo, nevicava, non c'era quasi più nessuno, sono uscito, ve lo giuro, vado là, rimetto il 5.000, non c'era più nessuno, c'era solo i pezzi di panettone per terra, eccetera, rimetto il 5.000, lo rifaccio, ci avrò messo mezz'ora, anche di più, vado nel laboratorio, deserto, Franchi nel suo ufficio, chiaramente, è illuminato, sviluppo cosa devo sviluppare, le rimetto sul negatoscoppio, arriva Franchi, guarda, dice, adesso sì che va bene, chiude il negatoscoppio, buon anno, mi ha detto, e se ne è andato, io me ne sono andato, una reazione di vita pazzesca, la ricerca era questa, noi facevamo, simulavamo, l'utilizzo del prodotto finale, nel caso specifico che ho spiegato io, si trattava di migliorare alcuni prodotti, e chiaramente, per vedere se vanno bene, come i collaudatori della Fiat, della BMW, della Mercedes, vanno in macchina, in tutte le situazioni particolari, noi dovevamo simulare, quello che faceva poi il cliente finale, nel caso specifico di questa prova bianconero, era la famosa P30 cinema, che poi avrebbe vinto, o aveva già vinto l'Oscar, e ne avrebbe vinte altri due, allora, noi, quando c'erano delle migliorie, per migliorare la sensibilità, per esempio, più rapidità la pellicola ha, meno luci servono, eccetera, eccetera, non la sto a spiegare a voi, dovevamo migliorare, e allora, cosa facevamo? Le prove del laboratorio, venivano comparate, con la produzione attuale, e con, soprattutto, la concorrenza, quindi, in quella prova che facevo io, era, le 5, 6, o 7 prove, che avevamo studiato, da una settimana, da 10 giorni, ci mettevamo, i test, i master, che erano le nostre P30, tradizionali, eccetera, eccetera, in più le P30, P30, si chiamano diversamente, di Kodak e di ACFA, le esponevamo, con quel famoso 5.000 davanti, per un tempo, attraverso una lamina, che passava un cinquantesimo di secondo, una specie di otturatore, accaduta, e poi controllavamo, e a quel punto, poi studievamo come migliorare, a questo punto, vi racconto ancora questo aneddoto, dalla prima parte della ricerca, e poi basta, perché ce ne sono troppi, a un certo punto, mi avevano dato, appunto, sempre franco, un incarico, di trovare un prodotto, che migliorasse la sensibilità, allora, cosa si faceva a quei tempi lì? Non si andava su internet, a vedere cosa avevano già fatto gli altri, bisognava andare all'ufficio brevetti, e andare a cercare, i prodotti, di una certa categoria, in quel caso, lì erano i chetoni, e poi, cercare, che non fossero già brevettati da altri, perché altrimenti, non si potevano usare, e bisognava stare dieci giorni all'ufficio brevetti, a leggere, a leggere, a leggere, a leggere, in diverse lingue, tra l'altro, finalmente, io avevo trovato una famiglia, di chetoni, che noi erano brevettati, contento come un pazzo, vediamo come vengono, comincio a fare tutte le prove, e la sensibilità aumentava, di tre o quattro DIN, quei tempi si parlava di DIN, adesso si parla di ASA, quei tempi si parlava di DIN, e quindi ero contento come un pazzo, senza dire niente a nessuno, perché non c'erano ancora gli americani, quei tempi lì, quindi ciascuno lavorava per sé, faccio queste prove, vedo che vengono tutti i quattro o cinque DIN, più sensibili del master, più sensibili della concorrenza, li metto tutti sul famoso negatoscopio, chiamo il dottor Sanchi, gli dico, dottore guardi qua, lui guarda, bravo, bellissimi, e sai cosa mi ha chiesto? Quanto costano? Non ho idea dottore, costavano più del diamante, per quello che non l'aveva brevettati nessuno, cioè avevo fatto tutto, uno studio su un prodotto che andava benissimo, ma non mi sono chiesto giustamente da ragazzo giovane, da ricercatore, non navigato, quanto costavano, giustamente se non l'aveva brevettati nessuno, qualche motivo ci sarà stato, e lui infatti la prima cosa, ha detto benissimo, va bene, bravo, quanto costano? Non ho idea, se mi formi, il giorno dopo vado dal famoso signor Caviglia, che era il capo dell'archivio, vado là, quanto costano sticchettoni? Ogni grammo costava come tartufo, quindi bocciato il progetto, da allora, la prima cosa che facevo, appena trovavo qualcosa, mi andavo a informare quanto costava, e fino allora non ci avevo mai pensato. Quindi come ricercatore, poi sono andato avanti, fino appunto al 70, nel senso che mi hanno poi dato, aumentato la responsabilità, all'inizio lavoravo quasi da solo, con un assistente operaio, quel famoso Genta, che mi è venuto a prendere il primo giorno, che poi si è rivelato un amico, una persona squisita, e mi hanno dato poi un team di lavoro, io coordinavo, giustamente dopo che ero passato, poi fisso, coordinavo già un gruppo di 7-8 persone, tra cui 4-5 signore, che è sempre difficile anche da gestire, lo dico sempre anche ai miei nipoti, che io quando avevo, ripeto, nel 61, avevo solo 20 anni, 19, 20 anni alla fine dell'anno, già coordinavo un gruppo di persone eterogenee, molto più anziane di me, con molta più esperienza di me, di lavoro, e quindi la scuola, secondo me, ci aveva dato una bella preparazione, non solo scolastica, ma anche di forza mentale, di pelo sullo stomaco, cioè sapevamo quando uscivamo che eravamo maturi dall'Istituto Littis di Savona, eravamo pronti per entrare nell'industria. Niente, in quei 10 anni di ricerca ci siamo occupati di pellicola sia fotografica che cinematografica, non c'era differenza, cioè la stessa tecnologia di emulsioni nel bianco e nero era proprio praticamente la stessa pellicola, nel colore, e abbiamo cominciato col colore con abbastanza difficoltà in quegli anni, c'era molta differenza, perché viene da sé, però la pellicola cinematografica può essere, meglio detto, meno sensibile, perché ci sono le illuminazioni, quindi il negativo cinematografico e il positivo cinematografico non è un problema di sensibilità, perché uno aumenta l'illuminazione, l'esterno lo fa quando vuole, a quei tempi i film li facevano al 90% in interno, mentre, e qual è la, diciamo, peculiarità migliore del negativo cinematografico? Grana sottile, chiaramente, perché poi vengono ingranditi enormi sui schermi e colori perfetti, brillanti, morbidi, quindi contrasto basso, grana sottile, anche poca sensibilità, chiaramente, se c'è anche la sensibilità, meglio, perché sia per gli esterni e si guadagna un po' in potenza luce. La pellicola amatoriale, invece, deve essere molto sensibile, molto più contrastata con colori più violenti, perché giustamente il cinema uno ha bisogno di colori più suavi nella fotografia, se uno c'è una maglione rosso lo vuole vedere rosso, se c'è un maglione giallo lo vuole vedere giallo, incarnati perfetti e molta sensibilità, perché chiaramente ci sono miriadi di macchine una diversa dall'altra, di macchine fotografiche, da quella, dalla Nikon del tempo o la Rolli Flex addirittura, fino a quelle scarse, che bisogna dare tanta sensibilità con la pellicola. però la tecnologia è la stessa, non ci sono differenze. Correva l'anno 70, 70-71 e ci sono stati i laboratori unificati che li chiamavano, al tempo li chiamavano LER, Laboratorio Emulsione Riunite. e il nome giusto era LRF, Laboratori Ricerca Fotografica. In una nuova zona, quello lo hanno fatto gli americani, come idea, hanno messo in pratica tutte le ricerche, tutti i vari laboratori etni, come quello del dottor Franche, dove io c'ero, l'avevano spostati tutti all'ER e siamo andati lì. A quel punto hanno unificato anche le persone, quello che diceva lei un po' che anzi, l'organizzazione, hanno cambiato l'organizzazione. e io sono stato inserito non come ricercatore puro, ma come laboratorio di ricerca, nel senso, i ricercatori facevano le loro prove, non c'era ciascuno col proprio laboratorio di sviluppo, di stampa, di colore, di guardare, sviluppare, eccetera, c'erano i laboratori riuniti e io mi hanno messo responsabile del laboratorio colore, vale a dire, tutti i ricercatori che lavoravano sul colore ed erano, non so, 20, 30, di tutti i prodotti, negativo, positivo, carta, cinema, eccetera, quando avevano fatto le loro prove, lo davano in mano a noi come process, come laboratorio e noi prendevamo i loro prodotti, le sviluppevamo, le stampavamo, facevamo come fosse un cliente, non so se ho reso l'idea, quindi io per, diciamo, 6 anni, 5 anni e mezzo, fino al 75 e mezzo, all'inizio del 76, mi sono ferrato, dico ferrato perché è stato importantissimo per il seguito del mio lavoro, perché se fossi stato un ricercatore puro non potevo andare all'assistenza tecnica, perché non avevo le basi, invece io facevo nell'air come un cliente, come il laboratorio utilizza i prodotti fotografici, cinematografici e anche quelli professionali, la carta, e allora per 5 anni ho fatto quel lavoro lì, arrivava il ricercatore e diceva c'è tutta questa roba da provare, allora noi cosa facevamo? facciamo come fa un cliente, quando ti ho un cliente e gli porti qualche cosa, lui lo sperimenta, e lo sperimenta con che cosa? Lo sperimenta sempre col prodotto attuale per vedere se è migliorato, perché se facciamo qualcosa è per migliorarlo, e poi soprattutto mai dimenticarsi di sperimentarlo in confronto alla concorrenza, quindi c'è sempre prodotto nuovo ancora da uscire, prodotto attuale che stiamo vendendo e uno o due prodotti da concorrenza, noi facciamo sempre Art e Kodak, poi abbiamo fatto anche Fuji dopo gli anni 70, le sperimentiamo proprio, facciamo le riprese fotografiche o le riprese cinematografiche, le sviluppevamo, le stampavamo, facevamo gli ingrandimenti, eccetera, eccetera, e quindi io conducevo questo laboratorio, quindi avevo sotto di me come miei collaboratori 4 o 5 periti giovani che intanto ciascuno aveva il proprio gruppo e aveva una sessantina di persone, quindi ero diventato un capo di laboratorio interno che simulava un cliente ipotetico. Una di queste prove le facevamo proprio sul campo, diciamo così, e allora a quei tempi c'era uno dei ricercatori più in gamba che c'era già mancato purtroppo, il dottor Guzzi, era uno che poteva fare l'attore, era bravissimo, era un fenomeno, un regista, eccetera. Allora ha proprio detto quello che diceva lei di Anzi, perché invece di fare le solite prove al mare, eccetera, noi non facciamo un film proprio così almeno vediamo cosa succede? E allora abbiamo deciso di fare Nofteratu, Nofteratu 70 che chiaramente ha la storia di un vampiro che l'abbiamo ambientata che era nato a Ferrania, lui faceva il vampiro, io facevo solo le riprese e lui faceva il vampiro con tutti i ragazzi di Ferrania, c'è anche uno di questi americani che era con noi, eccetera, eccetera, è molto bello, io ce l'ho chiaramente, poi l'ho passato da pellicola in video, quindi c'è anche il dischetto e abbiamo fatto questo film che è durato non so un mesetto, tenni da giorni, tutte le riprese, eccetera, e poi questo è in bianco e nero e poi noi abbiamo fatto altri, poi abbiamo fatto 3 nel 1000 per esempio, 3 nel 1000 ambientato a colori questo, sempre in super 8 o 2 per 8 super 8 perché Nofteratu era in 2 per 8 addirittura, poi dopo era già arrivato il super 8 poi abbiamo fatto ne abbiamo fatti altri 16 mm per esempio la Celeste Pendolare non so se vi ricordate a Loano c'era una Madonna c'era una signora che vedeva una Madonna eccetera nell'entroterra di Loano e allora noi sicuramente siamo andati là a fare delle riprese e l'abbiamo chiamata la Celeste Pendolare satiricamente e abbiamo vinto anche un premio a Montecatini che c'era diciamo l'Oscar degli amatoriali eccetera eccetera e parliamo di tanti anni fa quindi facevamo anche delle cose per divertirci questo lo facciamo di sabato e domenica non durante gli orari di lavoro lo facevamo di sabato e domenica però quando facevamo vedere anche agli americani stessi qualche cosa facciamo vedere le prove tecniche poi anche un piccolo filmino in modo da fare vedere la sperimentazione come andava a finire questo fino al 76 e poi ho smesso di fare il ricercatore e poi come andava a finire